Ci ha raggiunti il cittadino portavoce della Camera dei Deputati, lo dico preciso, Movimento 5 Stelle e Riccardo Fraccaro. Allora, chiunque avesse pensato che ci fosse stata una svolta garantista all'interno del Movimento dopo il regolamento, si è sbagliato, perché in questo momento sul tema Renzi, Babbo Renzi, Lotti, il Movimento sembra quello duro e puro delle origini. Quindi, però, le faccio subito la mia obiezione, così partiamo subito da lì, diretti, diretti. Perché Virginia Raggi, che è indagata per abuso d'ufficio, rimane al suo posto? Cosa sacrosanta per chi è garantista e invece Luca Lotti, che tra l'altro è indagato per un reato meno grave, nel senso che è indagato per violazione del segreto d'ufficio e favoreggiamento, secondo voi deve andare a casa. Qual è la differenza? Perché naturalmente l'accusa che si fa sono due pesi e due misure. Garantisti a casa proprio e giustizialisti con gli altri. Sì, guardi, grazie per la domanda perché è sempre utile specificare qual è l'atteggiamento di una forza politica di fronte alle responsabilità di rappresentanti dell'istituzione. Noi abbiamo un atteggiamento che secondo me è rispettoso della Costituzione. La Costituzione che tra l'altro l'abbiamo salvato da quel delirio di onipotenza di Renzi del 4 dicembre scorso. Quindi io direi di applicarla. Ci dice una cosa la Costituzione, articolo 27,2, nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva. Si tratta della colpevolezza dal punto di vista giuridico. E noi in Movimento 5 Stelle non è che vogliamo arrestare noi chi riteniamo colpevoli. Aspettiamo questa la magistratura. Non fa una piega. Perfetto. Poi c'è anche l'articolo 54 della Costituzione che dice che i rappresentanti delle istituzioni devono agire con disciplina e onore. Che cosa significa? Ce l'ha spiegato secondo me nella storia di questo paese una persona che io non sono nemmeno degno di citare che è Borsellino. E ci ha detto che i partiti non devono aspettare i giudici per fare polizia al loro interno. Alcuni comportamenti possono essere non reati ma essere comunque disonorevoli. Ci ha spiegato Borsellino che il politico deve anche apparire onesto e non solo essere onesto perché ne va della credibilità. Qui siamo di fronte sul caso Consip a uno scandalo secondo me gigantesco perché parliamo di tangenti perché per quanto riguarda l'informazione noi tutti quanti abbiamo letto penso l'informazione. Siamo di fronte all'indagine al momento. Un'indagine in corso che ci dice che ci sono probabilmente delle tangenti una corruzione che riguarda la Consip. Cioè la società dello Stato che gestisce più di 40 miliardi dei nostri soldi ogni anno. Però il massimo del reato che ha fatto questo signore è qui di aver detto al capo di Consip che c'erano le cimici nel suo ufficio cioè non ha preso denaro. Però non sminuiamo perché questa è una cosa gravissima. Cioè c'è un'indagine in corso questo sta succedendo. Un'indagine in corso dove si parla di tangenti. No no ma lei ha ragione io dico una cosa diversa. Perché cosa fa la mozione di sfiducia all'Otti se non aspettiamo le indagini? Beh la mozione di sfiducia all'Otti si basa su un ragionamento logico non è neanche politica. Abbiamo un amministratore delegato della società che gestisce i nostri soldi che dice che l'Otti ha commesso un reato. E cosa fa il governo? Rinnova la fiducia a questo amministratore che continua oggi ad amministrare i nostri soldi. Cioè ha la credibilità per amministrare i nostri soldi però quando parla ai magistrati dice guarda che c'è un ministro della Repubblica che ha commesso un reato allora lì non gli crediamo. Cioè se è bugiardo lo mandi a casa. Se è bugiardo lo mandi a casa. Siccome lo teniamo bugiardo è un ministro Lotti. Non è che ci possono essere due bugiardi. Io credo che la stampa sia un potere fondamentale per una democrazia. Se siamo il 76esimo posto per libertà di stampa non è colpa del Movimento 5 Stelle. Io sono stato abbastanza scandalizzato dall'atteggiamento della stampa sul caso Roma. Non perché si fosse occupata delle vicende di Roma. Non guardo spesso la televisione per questioni di lavoro ma mi sono trovato ad accendere Rai News un giorno quando si parlava della fake news della richiesta di patteggiamento da parte della sindaca Virginia Raggi cosa che non era mai avvenuta. Le notizie erano in prima serata 1. Trump 2. Il falso patteggiamento della Raggi 3. Solo dopo i 3 miliardi e mezzo di manovra che deve fare il governo di tasse, lacrime e sangue sugli italiani. Le sembra possibile? L'ha fatto in Parlamento una battaglia enorme sulla libertà di stampa quando il governo Renzi ha cercato e purtroppo ci è riuscito a controllare la TV pubblica. L'abbiamo fatto proprio perché crediamo nel valore della libertà della stampa. Oggi in Italia siamo un paese semi-libero per libertà di stampa. Lo possiamo dire. Forse dovreste... Ma guardi, io non sono semi-libero neanche per niente. Forse dovreste essere... Lei sta dentro una rete, guardi, dove possiamo testimoniare te io che è corrado. La libertà di nostra opinione è assoluta. Non è mai arrivata nel corso dei discorsi anni mai una volta una critica, una segnalazione. Sono d'accordissimo perché ci sono tante cose. non sono semi-libero. Purtroppo in Italia la stampa non è totalmente libera perché molti giornali sono controllati direttamente e indirettamente dalla politica e la TV pubblica è controllata. Possiamo dircelo queste cose? Perché se no ci mettiamo la testa sotto la sabbia. Quindi noi facciamo, cerchiamo semplicemente di contrastare questo sistema per rendere il più libero possibile. Gli strumenti sono quelli però, mi scusi. Gli strumenti sono quelli di cui parlavo io prima. Quellate, chiedete le rettifiche. Questo è il vostro campo. E noi abbiamo, infatti, Luigi Di Maio ha querelato quelle persone. Però se un giornalista dà una notizia falsa su Luigi Di Maio Luigi Di Maio credo che abbia tutto il diritto di dire che quel giornalista ha dato una notizia falsa su di me. Certo, assolutamente. Ha molto tempo che i toni sono altissimi in politica. Credo che chi abbia in questo caso strumentalizzato i rapporti familiari sia stato proprio Renzi. Ha utilizzato una tattica che fa sempre. Cioè, nel momento della difficoltà, quando è all'angolo, come un giocatore d'azzardo, rilancia per non vedere le carte. In questo caso ha rilanciato addirittura sul padre che sinceramente, insomma, mi sembra abbastanza poco carino nei confronti per i rapporti familiari che possono legare. Lo sciacallaggio l'ha fatto Renzi su suo padre, non grillo su Renzi. Mi sembra evidente. Quando dice addirittura da uomo di Stato, quale dovrebbe essere, o ex uomo di Stato, chiedo pena doppia per mio padre nel caso in cui risultasse colpevole. Voglio anche ricordare che secondo me un uomo di Stato dovrebbe chiedere pena certa per i potenti, non pena doppia, non pena simbolica. Perché poi il vero problema anche in questo Paese è che spesso, a causa delle leggi fatte ad hoc dai parlamentari per salvare i colletti bianchi, non si arriva alla sentenza. Per esempio, nel caso Consip c'è una persona coinvolta molto potente perché ha sorretto il governo Renzi per tre anni e si chiama Dennis Verdini. Ora, noi sappiamo che... Non è indagato. Sì, però è coinvolto nelle indagini. Cioè, delle carte si evince anche che c'è la partecipazione. No, finisco solo questo che è importante. Mi scusi. Dennis Verdini è stato condannato a nove anni. Ma non ci dimentichiamo che era stato condannato per corruzione l'anno scorso. Ho capito dove vuole arrivare. Alcune persone mi sono piaciuto